Mamba out. Con queste parole, Kobe Bryant aveva salutato il pubblico dello Staples Center al termine della sua ultima gara da professionista disputata con la maglia dei Los Angeles Lakers, il 13 aprile 2016, contro gli Utah Jazz, mettendo a referto 60 punti con il 44% di percentuale dal campo. E sul parquet dello Staples Kobe dovrà tornare il prossimo 18 dicembre, quando la franchigia Giallo-Viola ritirerà le storiche maglie della sua carriera, la numero 8, e la numero 24, lanciando definitivamente il Black Mamba nell'Olimpo dei Lakers. Bryant si aggiunge, dunque a grandissimi nomi della storia Giallo-Viola, che hanno già visto ritirati i propri numeri di maglia, esposti allo Staples Center insieme ai gonfaloni dei titoli NBA conquistati nel corso degli anni. Una compagna d'elite, che comprende fenomeni del calibro di Wild Camberlane, numero 13, Elgin Baylor, 22, Gail Godric, 25, Magic Johnson, 32, Kareem Abdul-Jabbar, 33, Shaquille O'Neal, 34, James Forty, 42, Jerry West, 44, e Jamal Wilkes, 52. Saranno due le maglie ritirate, perché, con ogni probabilità per motivi di marketing, Kobe ha diviso la sua carriera in due parti. Una prima, giocata con la numero 8, dal 1996 al 2006, una seconda disputata con la numero 24, dal 2006 al 2016. E' giunto in NBA senza passare dal collegio, Bryant divenne ben presto il pupillo di un'altra icona giallo-viola, e dell'intera NBA, MR, logo, al secolo Jerry West, che lo portò ai Lakers nel 1996, soffiandolo a Carlotte. I primi anni di carriera di Kobe furono subito esaltanti, anche perché questo ragazzo di Piladempia, cresciuto in Italia, non aveva paura di nessuno, neanche di Michael Jordan, del quale sognava di ripercorrere le gesta. Dal 2000 al 2002 sarebbero arrivati tre titoli NBA consecutivi, con Peele Jackson in panchina e Shaquille O'Neal in campo, mentre dal 2004, sconfitta in finale contro i Detroit Pistons, con Cari Malone e Gary Paritone aggiunti al roster giallo-viola. Ecco un triennio di traversata nel deserto, fino alla ritrovata competitività dei Lakers, nuovamente con Jackson sulla tolda di comando, concluse con due titoli, 2009 e 2010, contro Orlando Magic e Boston Celtics, in tre finali consecutive. Infine, il lento declino, contrassegnato dai infortuni assortiti, per un giocatore capace di partecipare a 18 All-Star Game e due volte MVP delle Finals, ma per i record di Brianti, sarebbe necessario utilizzare litri di inchiostro. A dare l'annuncio di ritiro delle maglie di Kobe, ovviamente i Los Angeles Lakers del nuovo corso rappresentato da Gianni Ebus, per la proprietà, e Magic Johnson, presidente esecutivo. Le maglie di Kobe, troveranno ben presto il posto che spetta a loro, le parole di Gianni e in un comunicato, a casa, a fianco di quelle degli altri grandi Lakers di tutti i tempi. Non c'è mai stato alcun dubbio sul fatto che questo giorno sarebbe arrivato, l'unico punto interrogativo riguardava il quando. I tifosi dei Lakers, potranno celebrare ancora una volta il loro eroe, e, come già accaduto in passato, i nostri rivali ci invidieranno il leggendario Kobe Brianti. Anche Magic Johnson ha speso parole al miele per Kobe. Si tratta di un riconoscimento davvero meritato, ha detto Magic, Kobe è uno dei più grandi non soltanto della storia dei Lakers, ma anche dell'NBA di ogni epoca. Fa parte senza dubbio del mio personale Montrushmore NBA. Non vedo l'ora di ammirare quelle due maglie ritirate e appese alla soffitto dello Staples Center, e di festeggiare questo giorno speciale con lui, e con la sua famiglia. Non poteva mancare un pensiero del diretto interessato, espresso sempre in una nota. Da bambino cresciuto in Italia, ho sempre sognato di vedere appesa la mia maglia tra i pillastri dei Lakers, ma non avrei mai immaginato, che un giorno ne sarebbero state ritirate due. I Los Angeles Lakers mi hanno tributato un grande onore, sono grato a loro e felice per l'entusiasmo dei tifosi. La cerimonia avverrà in un contesto speciale, ovvero osia nella sfida tra i nuovi giallo-viola di Luke e Walton, e i campioni in carica dei Golden State Warriors, degno palcoscenico per celebrare il giocatore che più di tutti, ha segnato gli ultimi vent'anni di pallacanestro NBA.